Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Buongiorno a tutte le amiche e a tutti gli amici di Social Podcasting. Io sono Alessandra Corbetta e oggi per Alma a poesia vi leggo un inedito di Francesca Mazzotta. Chiudere le porte, portare addosso il segno di un'energia dissipata, trattenuta con gelosia dalle chiome di alcuni alberi, dai locali lotturni degli anni liceali, i ristoranti cinesi del periodo post-rock, dai grattacieli a specchio di un viaggio a sorpresa, dagli edifici periferici e dai giardini pubblici, dagli scaffali dei centri commerciali in cui negli anni hai toccato stoffe e cinghie di sfuggita desiderando perderti. L'energia trattenuta dagli archi di alcune chiese rinascimentali, freddi di secoli e secoli, testimoni muti nella luce che ritorna. L'energia che hai dissipato si nasconde anche sotto alcune poltrone, tra le posate ereditate da tua madre, lucidate e perfette usate a Pasqua e Natale. Nei vagoni di qualche intercity, in un abbraccio silenzioso in cui ti sei rimpicciolita, nel sudore, sull'asfalto, nelle fotografie finite nella cartella cestino del pc, eppure lì, tenacemente chiuse in un limbo duro a morire. Social Podcasting Your Digital Friends